Goal e intelligenza artificiale Stiamo dando le istruzioni all'intelligenza artificiale Per esempio chat GPT ma non necessariamente quello Ormai sono tanti gli strumenti che possiamo utilizzare Andate a vedere per esempio su Poe.com Tutti quelli che puoi utilizzare nella stessa schermata Ci sono diversi progetti di intelligenza artificiale Bene quindi guida Devi guidare l'intelligenza artificiale Magari mettendola anche in ruolo Per fargli capire come si deve comportare Con quali competenze pregresse Poi devi dargli l'obiettivo Che cosa vuoi ottenere E infine dare dei limiti Magari dei limiti indicando esattamente l'input che vuoi ottenere Per esempio il formato, una tabella Oppure dargli dei limiti Non scrivere più di 300 caratteri Oppure rimani in questo ambito Oppure ti do un esempio per farti capire esattamente cosa voglio Oppure ti faccio un esempio dello stile Col quale devi scrivere poi l'output Facciamo un esempio Se io gli dico agisci come un critico cinematografico Quindi lo sto guidando Gli sto dicendo vai a prendere tutte le tue competenze pregresse Nel mondo del cinema per tutti Magari manuali e libri Che hai studiato sull'argomento Poi gli dico qual è l'obiettivo Deve creare una tabella con 5 film assolutamente da vedere Se hai apprezzato il settimo sigillo di Bergman Poi gli do dei limiti dicendo che cosa deve mettere esattamente nella tabella E poi soprattutto che non deve superare i 300 caratteri di trama Il risultato è assolutamente interessante E soprattutto molto molto utile secondo me Perché può dare delle indicazioni Quindi tira fuori Tarkovsky, Kislosky Tutto molto esistenzialismo Però effettivamente non ci sono limiti da questo punto di vista Io potrei dire agisci come un esperto o di cinema o di letteratura Ho molto amato quel tal libro Per esempio Guida Galattica per autostoppisti Oppure quel film Matrix E allora dimmi 4, 5, 10 libri che dovrei leggere Se ho queste passioni Dimmi quali film Poi li possano accompagnare E magari puoi anche dirgli il perché ti sta suggerendo esattamente quei titoli Pensate per esempio a un bibliotecario Che deve suggerire dei percorsi di lettura personalizzati Direi che le potenzialità sono veramente veramente enormi Buona intelligenza artificiale